Serie D, tre partite di Coppa 20, una sconfitta contro una Serie C, poi due vittorie, com'è il bilancio? Il bilancio è positivo sicuramente, abbiamo avuto la prima partita, abbiamo imparato lo scopo della fronte a una condizione subito molto forte e con alcuni meccanismi ancora un po' indietro, ancora non ben odiati. Poi, nelle altre due partite, con un squadro di livello più modesto, abbiamo fatto bene, abbiamo pian pianino capito quali sono i meccanismi importanti, quello che deve funzionare, come deve funzionare e abbiamo avuto nell'ultima partita anche un bel atteggiamento di squadra, una partita molto assentita, una specie di derby per noi, la squadra ha agito molto bene, pur non giocando magari benissimo tecnicamente, però con grande entusiasmo, carica domistica e anche tenuta mentale. Sabato riprendete contro un'altra Serie C, quindi si alza un po' la posta in panio. Sì, sabato sarà durissima, come ho detto che una Serie C è anche fatta per le altre zone di classifica, per cui andremo lì, speriamo di fare meglio dell'altra volta, per lo meno di restare al nostro massimo con il rendimento. Abbiamo avuto una settimana questa che è iniziata ieri abbastanza bene dal punto di vista tecnico, quindi dobbiamo arrivare alla fine con le idee chiare su quello che dobbiamo fare nel campo, poi faremo quello che si permettono di fare, questo sarà un problema.